Ciao a tutti! Oggi prepareremo il baccalà alla limornese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono baccalà mollato e privo di spine, salsa di pomodoro, peperoncino, aglio, prezzemolo, sedano, olio evo, sale, vino bianco e olive nere che sono facoltative. Diamo il via alla ricetta! Nel varoma unto con olio abbiamo posizionato il baccalà e lo abbiamo irrorato con olio evo. Mettere nel boccale l'aglio e il peperoncino, il sedano e il prezzemolo. Li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti 120 gradi, velocità 2. aggiungere la salsa di pomodoro, il vino bianco, il sale e le olive. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Il baccalà è cotto, trasferire in una pirofila. Condire il baccalà con il sugo e servire. Baccalà alla Livornese. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!